E' la partita che ha monopolizzato l'attenzione di media e giornali nei giorni scorsi con tanti elementi di spicco da una parte e dall'altra sono tanti giocatori che possono deciderla con le loro giocate pochi minuti per il calcio d'inizio noi siamo pronti e anche emozionati qui in cabina di commento perché questo è davvero un gran match preparatevi, si parte tira sfonterà la risposta al termine di questi 90 minuti Milano, San Siro sono le coordinate di questa super sfida una cosa sarà pazzesca sulle tribune per questa serata di gara con me come sempre c'è Lele Adani rimanete con noi ovviamente per seguire le emozioni del match match che mette in palio i primi tre punti della stagione di UEFA Champions League fondamentale partire bene oggi in campo Inter e Benfica le sfide della fase gironi sono spesso più complicati di quanto possono apparire perché basta una giornata storta per gettare via punti prezioni il segreto per passare il turno è la costanza palla profonda di Di Maria ha concluso sul fondo, aveva anche una buona posizione ha provato a piazzarla e non è andato molto lontano dal bersaglio pari puntati su Lautaro Martini, giocatore in grado di cambiare polpo alla gara stiamo parlando del miglior realizzatore di questa formazione un giocatore di grandissimo spessore in grado di regalare emozioni un autentico fuoriclasse sono davvero curioso di vederlo all'opera oggi Lautaro Martinez perdono il pallone occhio alla botta il riflesso di Sommer palla sopra la traversa pallone che è terminato fuori possono andare dalla bandierina va direttamente in area risultato che non cambia Turam occhio perché c'è un buon recupero l'arbitro interrompe il gioco e concede il calcio di punizione all'Inter Barella ecco Barella i tifosi vogliono che si vada per la porta si ricorda che la media ufficiale è disponibile nello sport dello stadio tutte le taglie disponibili ecco Florentino tackle vincente porta il pallone Barella la difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco difesa scoperta ha spazio per andare Di Maria fischia l'arbitro azione interrotta è offside non ha fatto in tempo rimettersi in gioco il passaggio doveva essere leggermente ritardato Barella Dufres cerca Lautaro Martinez con questo cross può mettere da lì l'ha tolta dalla porta qui spezza l'azione e rinvia Barella recupera la palla e fa ripartire i suoi apre su Di Maria Raffa niente da fare gran recupero difensivo prova a sorprenderlo allontana il difensore su questo tiro vuole il tocco verticale rischia da palla attenzione pericoloso può andare da lì Inter riuscita all'1-0 ma occasione sprecata la difesa ringrazia era certamente più facile prendere gol che salvarsi si gioca c'è il vantaggio lo stesso gestito male ha una grossa Schatz qui attenzione pericolo palla che resta lì attenzione dopo la rispitta pallone in rete si aprono dunque le marcature riveniamo la conclusione che ha portato al gol a tu per tu con il portiere l'ha fatto secco con una botta imparabile gara che riprende ventiga che deve provare a reagire il numero 23 Niccolò Bambam Dumfries palla molto interessante palla che si stampa sul palo attenzione conclusione che non trova la porta decisiva la deviazione crossa nel mezzo allora è buono questo tira il rispinto dal difensore occhio al contropiede palla per Raffa Silva hanno l'occasione attenzione per trovare il gol del pareggio e il pallone in rete ha approfittato dell'intervento del portiere e ha piazzato senza problemi rivediamolo eccolo il gol portiere non esattamente impeccabile sulla prima conclusione poteva decisamente fare meglio quell'attaccante è stato pronto a piombare sulla respinta hanno pareggiato dunque 1-1 Artur Cabral due minuti di recupero così indica la lavagna vada col contagiri Lautaro Martinez intervento d'applausi occhio al cross in mezzo e c'è la rete mettono di nuovo la frezza e tornano a condurre rivediamo il corner del quale è stato il ripple ball eccolo un'incornata che non ha lasciato scampo al portiere un'incornata a San Siro arriva il fischio che chiude la prima parte del match con le squadre che vanno a riposarsi non deve accontentarsi di quanto buono ha fatto vedere nel primo tempo perché ha le qualità per fare ancora meglio ha dato il vantaggio alla sua squadra con una zampata nel finale del primo tempo è in fiducia può rivelarsi determinante anche nella ripresa arriva il fischio dell'arbit inizia la ripresa il Benfica è sotto di un gol prosegue qui dell'avanzata gli porta via il pallone con questo tackle c'è campo per andare attenzione Cabral Di Maria buona qui la lettura del difensore ribalta il fronte dell'azione grande tackle difensivo va Arthur Cabral grande tempestività di questo intervento occhio pieno di partenza c'è spazio per lui il gol dell'Inter che si porta dunque a più due sugli avversari questo replay del gol una ripartenza perfetta aperto quindi il piattone e la messa alle spalle del portiere che ha provato in vano a porsi alla conclusione siamo 3 a 1 e magari non finirà così si prosegue per il vantaggio e finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla si apre lo spazio invitanti legge bene questa situazione fa sbagliare l'attacco salta il difensore interviene e stava diventando pericolosa questa occhio si gioca a norma del vantaggio Barella occhio al filtrante di Barella e c'è il gol 3 reti di vantaggio e gara in ghiaccio possiamo prezzare meglio da questo replay la sua freddezza sotto porta non era un gol difficile ma per farlo bisognava essere lì al posto giusto si riparte con l'Inter che ha allungato 3 reti di vantaggio FEDERITO DI GARCIA BASTONI D'ARMIAN palla consegnata a Barella contrasto riuscito palla che rotola via CARLOS AUGUSTO cerca il corridoio opportunità c'è anche un preciso attacco che si interrompe può darsene in velocità e c'è il gol è il secondo di una super giornata per lui rivediamo l'azione del gol perché è frutto questa rete di un errore individuale ha sbagliato completamente la misura del passaggio finendo con regalare la palla all'avversario è rivedibile anche il piazzamento della difesa è troppo lenta della copertura si riparte sul fronteggio di 4 a 2 lascia partire il cross apprezzabile qui il tentativo di testa col pallone che è uscito di poco cabrali riconquista un pallone importante c'è la possibilità della ripartenza grande possibilità questa azione del gol che merita di essere rivista contropiede micidiale direi complice anche alla distanza ravvicinata non era un gol particolarmente difficile va detto se avesse sbagliato staremmo parlando di un errore da matita rossa è una distanza profondissima quella che separa le due squadre dunfresi ecco Arnautovic a cance la nobile la mette in mezzo arriva l'intervento dell'arbitro che va a verificare di persona l'entità dell'infortunio palla due e match che riprende mancherò 5 minuti alla fine della partita Raffa occhio al pallone alto possibilità tocco arretrato per evitare il pressing frattesi provo a salire ancora lateralmente l'inter l'arbitro ha segnato tre minuti di recupero occhio al traversone al centro si va avanti Gioao Mario sventa qui la minaccia Lautaro ci sarà corner per l'inter pallone in mezzo la alluntana l'arbitro mette fine all'incontro si apre con una vittoria la loro avventura in Champions come prima partita non potevano chiedere di meglio subito una vittoria per candidarsi a un ruolo da protagonista nel girone e lanciare un messaggio alle rivali Lautaro Martini se la fra i più attesi e se l'è cavata alla grande può essere giustamente felice per come è andata oggi ha messo la sua firma su questo successo con una prestazione di ottimo livello a a Sì, sì, sì! Grazie!